Vabbè, allora facciamo questo coro gregoriano che non sappiamo fare, quindi, cioè, non sappiamo fare, lo diciamo prima, quindi non è che poi, per un certo peccato, l'ultimo pezzo lo faceva cagare, no, ve lo stiamo dicendo prima, quindi, silenzio in sala per farlo, deve volare una mossa, perché la figura di merda si deve sentire fino in fondo. Scusami, reverbero, grande reverbera, e soprattutto niente video, sentiamo un po' di reverbero, non sento la cappella, scusa, vabbè, forse c'è, siamo, ho il primo che stona, però dobbiamo iniziare. Grazie Grazie